Il weekend della Formula 1 è sempre importantissimo, tra l'altro noi saremo presenti oggi pomeriggio proprio per presentare una moto speciale lì, che sarà molto importante ma è un weekend in cui credo sia molto attesa anche per questo pacchetto evolutivo che si aspettiamo da Ferrari, che ha fatto molto bene nelle prime gare ma ha fatto vedere che manca ancora magari un pezzettino e siamo tutti e credo tifosi appassionati e quindi in attesa di vedere i risultati della gara. Il prossimo weekend è Barcellona e non è una pista che ci vede particolarmente favorita perché è una pista con molto poco grip e gli ultimi anni abbiamo fatto fatica, quindi abbiamo un po' di modifiche, vedremo un po', però diciamo che è una pista che ci potrebbe vedere fare un po' più fatica del solito e quindi immediatamente dopo c'è Mugello e quindi vedremo di fare un buon risultato sommando le due.